C'è un'emozione venire qui, dove appunto qui in seconda fila ricordo la testa canuta di Moravia e la settimana dopo ha pubblicato sul settimanale L'Espresso una recensione che si chiamava Freud e suo cugino Nervale. Il free studio era un luogo dove potevi incontrare appunto Moravia, Bertolucci, Jean-Marie Strove, incontravi Siciliano, Pasolini, quello che purtroppo oggi non c'è più, cioè era un polo di aggregazione culturale, cioè era un centro radiante dove la gente si incontrava, si scambiavano idee, nascevano cose, collaborazioni. Io qui ho visto Angelopoulos, ho visto i primissimi film di Wim Wenders, ho visto soprattutto autori che avevo studiato sui libri, ma di cui non avevo mai visto i film, cioè quelli del New American Cinema, Stan Brackage, Paul Sharitz, Jonas Mekas. E ora Aurelia è nella collezione del cinema sperimentale d'avanguardia appunto della Filmmakers Cooperative fondata da Jonas Mekas e Shirley Clark. Che cos'era per me il cinema e come mi ci sono accostato? Dopo questa esperienza di teatro ho fatto regia al centro sperimentale di cinematografia nel 76-78 e contemporaneamente cominciavo a lavorare ad Aurelia e ai miei film sperimentali, perché cercavo una forma, pensavo che devesse una forma soltanto mia, cioè qualcosa che sia più simile, più vicina alla poesia e all'arte visiva e che abbia però il ritmo, la velocità del cinema. Già trovavo negli anni 70 il montaggio accelerato che si trovava in molti film di quel decennio, però io avevo studiato da ragazza, l'ho studiato Einstein, l'ho studiato le teorie del montaggio, Zig Averton e d'altra parte avevo letto Brackage, avevo letto gli avanguardisti americani. siccome anche scrivevo poesie, dipingevo, fotografavo, facevo teatro, pensavo che potevo trovare una forma espressiva, cioè il cinema per me deve essere una forma espressiva che riunisca, che abbia della poesia l'intensità, la concentrazione e la capacità di esprimersi attraverso le metafore. Quindi metafore visive è più che il linguaggio narrativo retto da concatenazione causale, cioè da leggi di causa ed effetto. Quindi qualcosa di molto lontano dal realismo, anche se partivo dal reale. E poi deve avere della pittura, la ricchezza cromatica, la ricerca appunto dei colori, delle sfumature, allora tutti i giochi di dissolvenza, di sovrimpressioni e badate bene, allora non esisteva la post-produzione, cioè non esisteva, cioè era qualcosa di immaginabile. Quindi tutto quello che vedete è stato fatto in macchina tramite un lavoro preliminare di storyboard o di immaginazione, un po' lavoro programmato e un po' flusso di coscienza, perché volevo mantenere comunque anche in una costruzione strutturalmente molto forte e programmata, volevo mantenere uno spazio molto libero, aperto alla creatività. Grazie a tutti.